eccoci arrivati a casa di paglia per una nuova serata che non so nemmeno il genere stavolta ogni giorno sempre peggio perché non mi informo mai e questo è un piccolo problema niente sono già arrivato ieri c'era un evento e sono dovuto venire qua per fare andare il proiettore che qui di conseguenza ho già programmato delle cose nuove ho aggiustato delle programmazioni vecchie abbiamo già appizzato tutto gli altri arrivano più tardi io mi metterò a programmare un bel po di cose nuove la disposizione delle luci è la stessa della volta scorso di conseguenza c'è la azer e il dimmer qua di lato abbiamo le due dv e dietro due dv e davanti le barra led appese i quattro par dietro e le solite teste mobili appese davanti con i tre fare da 1000 watt che alla fine e l'altra volta ce l'ho fatta raggiustare il dmx solo a 3 su 4 però è già stato un record in conseguenza abbiamo due di fianco al palco e uno in alto per fare scena alla fine del pezzo come avete visto nel video scorso e nulla qua ho tirato giù di nuovo i cavi si è asciugato ovviamente dopo la serata scorsa la ciabatta è stata eliminata perché era defunta e di conseguenza è stata cambiata per forza va bene ci vediamo quando arrivano gli altri eccoci sono arrivati anche gli altri è già sera e fra poco cominceremo a suonare cioè fra poco cominceranno loro suonare noi a fare luci stasera riccardo farà come fonico perché a stage e io adesso sono a riprogrammare delle cose perché il uno dei musicisti mi ha dato dei colori precisi che voleva loro e di conseguenza sto sistemando due o tre cose qua ci sarà matteo e la telecamera di manuel per fare le foto e ora mi metto a sistemare tutte le canzoni e i colori che vogliono loro quindi a dopo a dopo a a a a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.